Amore, l'amore, l'amore, l'amore. Alcuni dei concorrenti hanno deciso di andare nella stanza dell'amore. Vediamo quali. Ciao! Da? Ci straniamo? C'è una mia? C'è una mia pevranica? No! Dai! 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 Faccio il gioco da me! No, non ho voglio fare il gioco da me! Perchè? Dai! No! C'è nessuno che ci guardi? No, non so! Dai! 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 No! 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 Rafforato No! Non lo so! No! 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 mi piace giocare, lo sai, però con te non sto giocando, sei sicura, ti fidi? Sì, affidato, mi fidi. Allora, sta bene adesso. Sì, infatti tutti cercano di distruggerci. Non c'è dono, non c'è dono. Non c'è dono. Ragazzi, ragazzi, che giornata di duro lavoro, che peccato. Grazie a te. Credo in i milagrii, da te vi te qui in questa notte di tequila, boom, boom. Eres tan sexy, eres sexy thing, mis ojos te persiguen solo a ti. Grazie a tutti